Sappiate essere fiduciosi. 29 luglio 1977. Figli di Letti, ricevete il mio saluto e il mio abbraccio, che vi deve far crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. Oh perché vi lasciate prendere da tante paure e preoccupazioni. Non siete nelle mani di Dio, che vi è padre e dà cura di ciascuno di voi in particolare? Sappiate superare voi stessi e reagire alle forze del male, ma sappiate anche essere fiduciosi e vedere chiaro per non creare delle difficoltà dove non esistono. Molte paure sono frutto del carattere, ma sono anche suggestioni, di cui il maligno si serve per togliere la pace e per impedire il bene. C'è un proverbio molto importante che può esservi utile. I proverbi sono briciole di sapienza. Dice dunque, chi male non fa, paura non ha. Cosa importante è agire con rettitudine, con coscienza, sempre secondo la legge. Tutto il resto diventa semplice e frutto di grazia, perciò non può generare che pace. Anche per ciò che riguarda la salute del corpo, i beni materiali, la sistemazione della propria vita nella scelta dello Stato. Non dovete assillarvi fino al punto di farvi perdere la pace. Tutto è affidato alla provvidenza, e seguendo pure quelle regole che li gene. Il buonsenso e l'equilibrio vi indicano, dovete aver pace, perché la mancanza di serenità contribuisce non solo a far perdere la salute, ma anche a non far arrivare a capo di quelle cose che con la calma si porterebbero a buon fine. Non finirò mai di raccomandarvi la fiducia reciproca e l'amore vicendevole. I difetti altrui non devono essere motivo di discordia, ma devono promuovere la carità e invitare alla bontà, per cui si sopportano negli altri quei limiti e quelle cattiverie di cui le anime sono così ricche. Io desidero far fiorire da questi incontri amicizie buone e santità comune. Sappiate assecondarmi, poiché tutto tornerà a beneficio vostro. Vi benedico, figli. Il fresco di questa sera vi ripaga del sacrificio che mi avete offerto. A tutti il mio cordiale saluto e il mio arrivederci. Gli sposi che mi affidano il loro amore e le loro famiglie, sono da me custoditi sotto il mio manto come miei figli prediletti.